Il Sud Italia rischia di diventare il Nord dell'Africa con questo progetto di autonomia differenziata. Deputati, senatori ed esperti del tema che ieri erano a confronto a Giuliano nella Sala Teatro del Primo Circolo ne sono convinti. Con il disegno di legge Calderoli si rischia di acuire il divario Nord-Sud e lasciare indietro il mezzogiorno. Il primo a sostenerlo è Massimo Villone, professore merito di diritto costituzionale, che sta portando avanti la battaglia anche attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare. C'è un rischio di un'assegnazione di risorse che viene attratta verso regioni che già oggi sono più ricche e più forti e che quindi alla fine sottraggono risorse alle regioni che invece avrebbero bisogno di un supporto e di solidarietà sotto il profilo economico e dello sviluppo e poi ci sono rischi di frammentazione del paese. Chiamati ad intervenire deputati e senatori di opposizione. Come vicepresidente, chiaramente essendo in conferenza dei capigruppo, mi impegnerò affinché questa proposta di legge e di iniziativa popolare poi venga discussa in Parlamento. È una scelta incomprensibile quella fatta dai presidenti di regione, soprattutto del mezzogiorno, perché questa è una riforma che spacca l'Italia e penalizza enormemente il sud. Ma questa deve diventare una battaglia di carattere popolare oltre che parlamentare. Il tema del dibattito voluto dall'Ampi di Gioiano è stato incentrato soprattutto sul divario che c'è nel paese. Ci dovrebbe avere il coraggio di fare la perequazione che significa creare un minimo di condizioni per avvicinare le distanze tra il nord e il sud. Se non si fa questo, il sud rischia di fare il nord dell'Africa. Le prossime iniziative dell'Ampi naturalmente sono legate questa volta alla diretta funzione dell'Ampi, cioè il 25 aprile. E poi vi sono gli 80 anni della rivolta di Napoli contro il nazifascismo.